Il tempo dedicato a Spornostop al Mondiale di Rugby sta per scadere, però c'è ancora una domanda prima di... Sto pensando, ma puoi proprio andare via? No, no, io mi trovo molto bene qui e vorrei stare un altro quarto d'ora. Allora, magari scompaginiamo un po' la pagina. Luca Tramonti si fermerà per parlare tra poco di che sport ve lo lascio solo immaginare. Nel nostro tavolo ci raggiungono Inti Pestoni, Loris Brandi e Gianpaolo Giannoni. Luca, perché ti ho chiesto di stare qui? Perché? Le tue lezioni, qualcosa ogni tanto rimane. Diciamo le nostre chiacchierate comunque penso per la questione dei contatti sopra le spalle o più volgarmente detto le canonate sulla testa. Ecco, quindi rugby e hockey sono sempre più simili. Adesso hanno proprio lo stesso problema professionale, lo stesso problema anche didattico, come regolare i contatti, come mettere a posto la frequenza altissima di contatti sopra la testa. Dunque, culturalmente le Samoa e le Fiji vanno alla testa. Da loro si arbitra, si lascia correre in maniera abbastanza tranquilla. C'è una grossa differenza arbitraria, quello che dicevano i colleghi dell'Hockey, lo ritrovo adesso. Si guarda prima chi ci arbitra oggi, chi abbiamo. Attenti, attenti sui punti di contatto perché questo arbitra in una maniera e questo arbitra in un'altra. Si è arrivati presto a proibire il contatto di spalla sopra la testa. Dopo per un periodo c'è stata la tolleranza, ma se il contatto parte da sopra e scivola, scusate, parte regolarmente e scivola sopra come lo regoliamo. Come viene regolata adesso è se mi faccio male ho la squalifica, se non mi faccio male no. Secondo me non è tanto giusto. Non è tanto giusto, non è più facile che un atletto della mia stazza, della mia indole sia dannoso. Però un giorno ne parlavamo con Marco Baron, non dobbiamo punire contatti duri però, attenzione. E credo sia diseducativo perché ci fregiamo di essere lo sport per tutti. E dopo invece premiamo solo chi ti può rubare la palla o il disco, che è la stessa cosa, con la destrezza, ma io la destrezza non ce l'ho, voglio giocare lo stesso. Quindi devo potertela rubare, devo poter bloccare l'avversario di talento, io che non ho talento, con le spalle e con i deltoidi, con l'impatto. Quindi è una linea sottilissima, dobbiamo negare i falli che danneggiano la testa, però attenti anche che se qualcuno si abbassa apposta, perché lì per il professionismo arriva anche a questo, fallo di Holden l'ho visto, otto giornate sono d'accordo con l'Horis. Poche, poche. Però in tanti casi simili si punisce, più che la brutalità del fallo, la durezza dell'intervento. Invece la durezza, opinione mia, dobbiamo tenercela, è cara, è stretta, perché è un valore. Anche educativo, secondo me. Sei convinto, Inti Pestoni, che ti seguiva e faceva il cenno con la testa? Sì, è così. E lui è uno di quelli che gli subisce questi falli, vuol dire che ha fatto un discorso che calza alla perfezione? Ma sì, comunque ci vuole il gioco fisico, giocare duro, perché non vedrei uno che è senza contatto fisico, quindi è normale che succedano dei check duri, ma bisogna fare differenza fra un check duro e uno che è veramente pericoloso. Era l'anno del grande Eric Weston, un Eric Weston che ieri ha visto i compagni della tribuna. Inti, non parliamo di Eric Weston in tribuna, perché sarebbe antipatico. Però diciamo due parole su Eric Landry, sul ghiaccio. Io ho visto un 38enne, se non mi sbaglio, con tanta fame ieri. Com'è Eric Landry in squadra? Che tipo di quinto straniero? Questa cosa non è piaciuta a Luca Travontini, perché se fanno il contratto a quinto straniero, se è così, punto e basta, non ti puoi lamentare. Ho visto che... No, mi piace anche, però dico solo metà del mio pensiero, perché così risparmiamo un po' di problemi legali. Non che abbia niente contro il talento, però so cosa vuol dire avere in squadra un giocatore che ha dei privilegi in più, che l'allenatore non sgrida tanto come te. So che peso ha sul carno della squadra, l'ho vissuto personalmente e lo sento da fuori. Poi io, di mio, per limite, cultura mia, apprezzo molto i giocatori, per esempio la Sdenociara per parlare, per andare in Canada, o mi piacciono quelli di là, mi piacciono Amati Cutra, che qualcuno invece apprezza di più il giocatore di super talento. Ne va benissimo. Pur che abbia gli stessi identici trattamenti economici, non mi interessa, perché tutti l'abbiamo fatto, lo facciamo in professione, e io sto ancora accampando di quello, ringrazio. Però quando l'impressione vaga da fuori, che un giocatore abbia qualche concessione in più, io sento una cosa che però non definisco. Ve la lascio intuire, ve la dico per telepatia, però non vado oltre. Luca, quando un giocatore fa le veci dall'allenatore, è un bene per la squadra? Se è in armonia, e dalle immagini che ci sono viste, da quello che si capisce seguendo, seguo da esterno l'occhio in Svizzera, lo seguo tanto ma solo da esterno, si ha l'impressione di sì. Se è in contrasto, no, si spacca in due, necessariamente la squadra, negli sport di collisione è più grave la spaccatura rispetto agli altri sport, perché c'è più coinvolgimento, la fase emozionale è più carica. Se l'allenatore annuisce, come notava molto finemente Loris, e è d'accordo, benissimo, hai una competenza in più, e redditi un pacchetto di competenza in più. A me piacciono soprattutto i leader silenziosi, quelli che non urlano, non spaccano, non sgridano, ma tirano l'imbeccata giusta, con calma, quando serve. Capito, quindi il mio consiglio, non spaccare mai niente, ma consiglio giusto al momento giusto, lui se ne intende molto più di me. Luca, ci ritroviamo domenica prossima. Qui è giovedì allenamento, Stefano. Non era martedì? Martedì o giovedì, ho detto martedì, non poi giovedì allenamento. Ti faccio un quiz. Spero che presenta domenica. Ti faccio un quiz, di che cosa si parla adesso? Di calcio, Juve, chiaramente. Perfetto, ringrazio Cristin che mi ha regalato questi, perché sa che a Spornostop ci piace anche scherzare. Grazie, e chiamo Armando Ceroni che è pronto a raccontarci lo zona lucerna. Ma gli occhiali non me li metto però, eh. Prima ragazzi, cambio al volo. Ciao, ciao. Lui sa come stai, tutto bene. Grazie. Grazie. Grazie.